È uno dei parrucchieri più amati e richiesti ma è anche un'icona di stile. Naturalmente stiamo parlando di Federico Fashion Style, un vero artista della chioma che ormai ha creato dipendenza a tanti VIP e non. L'air stylist è diventato famoso grazie al programma Il Salone delle Meraviglie. Da allora ha iniziato a brillare di luce propria. Un grande parrucchiere, Federico, ma anche un tipo eccentrico tutto paillettas e lustrini che sa come conquistare l'attenzione del pubblico. Per chi non conoscesse c'è da aggiungere un'altra cosa. Federico Fashion Style è un amante del lusso e delle griffe. Nelle foto che condivide si mostra sempre vestito di tutto.Con abiti firmati Non solo, c'è dell'altro. Qualcosa che non tutti hanno notato. Punto i bracciali che porta sempre al polso, al quale è affezionatissimo e dai quali non si separa mai. Ovviamente non sono braccialetti da quattro soldi. Sono bracciali preziosissimi. Sapete quanto costano? Ma intanto capiamo di che bracciali stiamo parlando, il mitico Love Bracelet di Cartier. Un oggetto di culto che è un must have per le star da Chiara Ferran e Avanda Nara passando per Belen. Federico Fashion Style ha il modello tradizionale, quello in oro giallo. Sapete quanto costa? 6 400 euro. Un bel po'. Lo dicevamo che non era un accessorio banale. Spesso Federico abbina il bracciale di Cartier con un bracciale di moschino con il cinturino di pelle sul quale sono applicate delle lettere in oro e cristalli con il nome del marchio. In questo caso si tratta di una cifra più abbordabile, il bracciale di moschino costa solo 195 euro. Ma Federico Fashion Style è famoso anche per i bracciali vistosissimi di IPM Monaco. Sì, quelli che avete visto anche a Chiara Ferragni. Sono bracciali in argento dorato che vanno personalizzati con scritte brillanti realizzate con micropave di zirconi. Di solito Federico ne porta tre, tutti diversi, al polso. Su ogni bracciale è scritto un nome diverso. Sul primo c'è la scritta Federico, sul secondo la scritta Fashion e sul terzo il nome della figlia, Maelle. Prezzo. 297 euro l'uno. Insomma, Federico porta solo al polso quasi 7500 euro. Non male, che ne dite? All'interno della voce. Grazie a tutti.